salve a tutti ragazzi e bentornati sul canale per questo nuovo video oggi in questo video voglio portarvi una serie di consigli per quanto riguarda l'estetica della della mia auto quindi in particolare di una golf quinta serie mk5 andremo quindi ad analizzare cinque interventi che ho effettuato io e che mi sento di consigliarvi in quanto hanno tra virgolette reso migliore l'estetica generale nel complesso dell'autovettura e l'hanno anche abbellita poi avevo intenzione di dare una sorta di seguito a questi consigli a questa serie di video portando quindi altri cinque consigli per quanto riguarda gli interni fatemi ovviamente sapere se una tipologia del video del genere può piacervi in modo tale che io ve la porto senza alcun tipo di problema detto questo torniamo al nostro video andremo ad analizzare quindi come ho già detto cinque modifiche che ho effettuato e che mi sento di darvi come consigli per gli esterni dell'autovettura ovviamente io la ritengo un'auto che non sta tra virgolette invecchiando male la linea comunque abbastanza pulita e morbida personalmente non ho effettuato dei lavori e degli interventi che hanno stravolto l'estetica e tantomeno cambiato parti fondamentali in questo video non andremo a vedere delle modifiche del tipo installazioni paraurti gti o altre cose perché tra virgolette non è neanche una gt questa macchina non è una gtd né nient'altro in realtà è una golf 19 trendline goal di base non è più trendline perché ci abbiamo lavorato ci ho fatto vari interventi è stata migliorata di non di poco ma la natura dell'auto è quella quindi parlando personalmente non mi andava di andare a stravolgere l'estetica dell'intodo dell'auto e di porla più che altro per quel che volevo renderla tra virgolette con un'estetica molto personale e fare degli interventi specifici secondo ovviamente con un mio gusto seguendo dei miei canoni stilistici quindi la prima modifica di cui vi andrò a parlare oggi sono le frecce dinamiche una delle migliori modifiche in quanto al rapporto qualità prezzo deriva comunque da una tecnologia di auto molto più nuova della mia ed è una delle modifiche che tra virgolette riesce ad integrarsi con l'estetica totale in una maniera quasi perfetta perché ha semplicemente una modalità di accensione di funzionamento diversa quelle che ho installato io sono anche fumè quindi sono scure sono brunite credo vado anche ad integrarsi meglio con naturalità scura della carrozzeria ed è una delle modifiche più belle secondo me da poter effettuare per un rapporto qualità prezzo ottimo le ho pagate all'incirca 16 euro le ho installate da un anno e non ho alcun tipo di problema quindi questa tipologia di modifica qui mi sento davvero di consigliarvela tanto seconda modifica invece si parla del gruppo ottico queste auto sono molto soggette all'usura della calotta esterna del faro rispetto alla quarta serie la quinta serie a una calotta esterna in plastica quindi molto più soggetta il materiale stesso molto più soggetto ad usura si opacizzano molto più facilmente se non si opacizzano ci si ingialliscono comunque l'usura e gli anni e le pare percorrenze i chilometri percorsi vanno a danneggiare comunque a rendere anche il meno visibile la lampadina all'interno si abbassano l'illuminazione io personalmente non sto qui a dirvi quale tipologia di faro dovete installare è una scelta vostra lascio a voi la la tipologia di faro da voler scegliere per poter installarlo sulla vostra auto io personalmente mi sono limitato ad installare un faro originale di derivazione golf 5 gt sport quindi è un faro specifico per quel modello di auto con l'unica differenza rispetto al mio faro originale è che ha il fondo nero quindi non cambia niente non abbiano non è un lenticolare né agli angel ice né nient'altro semplicemente un faro originale con la parabola e col fondo nero all'interno li ho pagati all'incirca 145 150 euro su ebay e questa è una modifica che ho installato da dall'incirca cinque sei mesi e finora non sto riscontrando riscontrando alcun problema ovviamente piccola parentesi quando andrete a montare nuovi fari e il nuovo gruppo ottico anteriore in totale vi consiglio anche di poter cambiare le lampadine fate un upgrade o al seno non ve lo consiglio il 38 perché richiede più più componentistica stesso centraline cablaggi per evitare di avere tra virgolette anche una le centraline che escono dal faro per una pulizia anche estetica per avere meno componenti vi consiglio di utilizzare dei led quindi nel momento in cui mi trovate ad andare a cambiare il faro vi consiglio espressamente di cambiare anche le lampadine all'interno in modo tale da poter sfruttare appieno il nuovo gruppo ottico anteriore sia in quanto è estetica ovviamente una luce fredda ben fatta delle buone lampadine hanno una resa un'estetica totalmente diversa sia in campo di affidabilità e di utilizzo su strada quindi comunque migliorano l'illuminazione terzo punto che andremo ad analizzare è il sottoparaurti posteriore una delle parti che io odio di più di quest'auto originale perché quel fascione nero enorme non mi fa impazzire per niente è una delle parti che meno preferisco della dell'auto originale quindi il consiglio che vi do ci sono ovviamente varie tipologie di sottoparaurti c'è la versione con scarico r32 versione con uscita dello scarico laterale ci sono semplicemente anche le versioni con l'estrattorino tra virgolette inciso all'interno del paraurti ma senza l'uscita dello scarico se non volete andare a modificare la tipologia di scarico io personalmente sulla mia ho deciso di installare la versione della versione del sottoparaurti gt originale quindi con la sorta di una sorta di estrattore neanche estrattore ma un profilo scavato all'interno e con uscita del doppio scarico a sinistra anche perché ho cambiato anche il terminale di scarico per tra virgolette avere un'estetica finale il più originale o in plus come dico sempre possibile quindi questa è la modifica che ho scelto di voler fare io potete scegliere ovviamente di tenerlo grezzo di verniciarlo di farlo di due colori quindi magari di fare la parte centrale nera e il contorno all'esterno del colore della carrozzeria ovviamente varia in base ai gusti voi siete liberi di poter scegliere qualsiasi tipo l'ho già di fare sottoparaurti installare io vi consiglio comunque di cambiare quello originale perché a mio gusto è davvero orribile quinto punto quarto punto che andremo ad analizzare quarta modifica che andremo ad analizzare che vi consiglio di modificare sono i cerchi i cerchi allora apro una piccola parentesi questa tipologia di modifica va avvicinarsi più ad un'auto base meno accessoriata quindi come la mia che può portare un cerchio da 15 o da 16 nel mio caso era da 16 ma erano inguardabili quelli originali se magari avete già una gt una gt sport una gt di non dico airline perché airline non è stata importata in italia ma una tipologia quindi di allestimento superiore più accessoriato con un'estetica migliore decidete voi nel senso putacaso possedessi una gt detroit non li cambierei perché sono dei cerchi fantastici per quanto riguarda il punto di vista estetico quindi nel caso ovviamente di auto meno accessoriate un po più base dalla nascita vi consiglio di andare a cambiare il cerchio oltre tra virgolette a migliorare l'estetica per dirvi se andiamo a fare un passaggio da 16 a 17 possiamo soffrire anche di un passaggio di gomma superiore ovviamente ne risentirebbero comunque un pochino i consumi e la rumorosità poi ovviamente dipende dalla gomma la rumorosità dell'arrotolamento dello pneumatico mi riferisco e ovviamente c'è una gamma di scelta di cerchi e gomme infinita oggi sul mercato potete scegliere dei cerchi originali dello stesso modello di auto cerchi con lo stesso interasse per dirvi io sulla mia installato dei cerchi di derivazione audio a4 anno 2010 montavano perfettamente perché interasse lo stesso 5 per 112 una unica modifica che ho dovuto fare è stato comprare degli anelli di centraggio sul mozzo centrale perché i cerchi audi hanno un anello hanno un foro centrale di dimensioni maggiori se non sbaglio 66.1 o 66.6 non ricordo con precisione potrei dire anche una fesseria quindi correggetemi se sbaglio contro al 57.1 della mia quindi alla fine abbiamo ho comprato questi anellini che mi fungono da spessore vanno incastrati dentro al cerchio e li ho montati perfettamente zero problemi ovviamente non ripeto non voglio dirvi quale tipologia di cerchio dovete montare scegliete ma io vi consiglio di cambiarli perché cambiano tanto le strade dell'auto e nel complesso ne avete anche dei vantaggi in quanto a guidabilità perché se montate un 17 avete anche potete potete installare anche una gomma più larga più grande quindi non è una cosa tra virgolette scontata non è solo estetica secondo me ultimo punto che andiamo a vedere invece per quanto concerne l'estetica è una delle modifiche che ho fatto più recentemente quindi l'apertura del portellone automatica la metto in questa lista perché perché oltre ad essere una modifica tra virgolette un retrofit funzionale in quanto magari possiamo trovarci con un qualcosa in mano un carico in mano abbiamo le chiavi ma non possiamo giustamente abbassare il carico per poter aprire la maniglia che tra l'altro comunque nel nel caso della quinta serie si apre dal logo tramite la pressione della chiave noi possiamo andare possiamo andare ad usufruire di questa comodità quindi quindi dell'apertura del portellone stesso ovviamente ho fatto un video già riguardo dove si andrà dove si vanno ad elencare tutti i passaggi da poter effettuare per poter effettuare questo retrofit appunto vi ho lasciato anche i codici in descrizione quindi potete trovare i ricambi dove volete ovviamente non ho scelto di non lasciare link in quel caso perché i pezzi sono si possono acquistare su più parti e può variare il prezzo per questo quindi magari se riuscite a trovarli a meno di quanto anche le ho pagate io per dirvi boom per voi sono contento e ovviamente poi oltre al lato funzionale anche il lato estetico perché per quanto possa essere anche tra virgolette una cosa inutile cioè non è una cosa fondamentale ma è bello sempre poter vedere magari che tramite un pulsante il portello ne può aprirsi automaticamente cioè oltre ad essere funzionale quindi è anche un minimo minimo scenico ovviamente apro piccola parentesi nel mio caso sull'auto sono applicati vari adesivi o varie decal magari e roba del genere questa è una cosa che tra virgolette non mi sono sentito di mettere nella personalizzazione e in questi cinque consigli che voglio andarvi a dare perché è una cosa molto personale e soggettiva quindi non posso dirvi andate a mettere un banner sul parabrezza anteriore quando magari a voi non piace non è una modifica nel senso anche così tanto poi funzionale né fondamentale per lo stato alla fine per non è tanto funzionale per lo stato estetico dell'autovettura in generale detto questo il video di oggi termina spero che i cinque consigli che vi ho dato possano tornarvi utili e possiate trarre vantaggio da da queste modifiche per magari poter valutare l'applicazione sulla vostra vettura stessa o meno spero davvero di nuovo che i consigli che vi ho dato e gli elementi di cui abbiamo parlato oggi vi siano piaciuti se il video vi è piaciuto lasciate un like commentate io cerco di rispondere sempre a tutti in modo da potermi confrontare con voi mi farebbe molto piacere e iscrivetevi al canale cosa molto importante sto cercando di raggiungere i 1000 iscritti e mi servirebbe il vostro aiuto se vi piacciono i video cercate di aiutarmi e supportarmi detto questo ci vediamo al prossimo episodio dove andremo a trattare altri cinque consigli per gli interni quindi detto questo ci vediamo al prossimo video un saluto a tutti ragazzi ciao ciao